Taglio del nastro questa mattina in via Buozzi per una nuova casa dedicata al progetto Dopo di noi, in cui il comune di Pesaro e associazioni del terzo settore intensificano il loro supporto all'autonomia dei portatori di disabilità. La casa è al sesto piano ed è situata in un punto strategico della città, a due passi dal centro e dal mare, ed è dotata di ascensore per dare la possibilità di raggiungerla anche in sedia a rotelle. Oggi inauguriamo un nuovo appartamento per il Dopo di noi, il Dopo di noi è un progetto che ha quasi dieci anni sul nostro territorio, è un progetto di vita e autonomia delle persone con disabilità, che coinvolge ovviamente sia le persone interessate che le loro famiglie, è un progetto al quale noi crediamo molto perché costruisce un percorso di autonomia in un ambiente familiare, ed è un lavoro che stiamo facendo da anni insieme all'Associazione dei Genitori, alla Fondazione Noi Domani, AIA, SATI 41, Labirinto, insieme a tutti i soggetti che hanno creduto sin dall'inizio a questo progetto. Oggi inauguriamo una nuova realtà e in prospettiva abbiamo il PNRR che prevede altri 12 posti per riampliare quello che è una domanda forte del territorio. È legato al fatto spesso che le famiglie invecchiano e quindi i ragazzi che primano ragazzi hanno bisogno di trovare degli spazi anche autonomi. La legge del dopo di noi si pone un quesito, cioè la persona disabile che vive in casa, nel momento in cui la famiglia non può più per età, per problemi sovraggiunti, gestire una persona appunto disabile, questa persona in genere va a finire negli istituti, quindi con costi anche alti, ma soprattutto appartamenti come questi lanciano un messaggio di una cultura, che è la cultura che le persone anche disabili hanno delle risorse forti, grandi e quindi anche un loro diritto vivere in autonomia e poter continuare a vivere in un appartamento proprio. I protagonisti di questa casa saranno tre coinquilini affetti da gravi disabilità che potranno sperimentare l'avventura di avere una casa propria e soprattutto di vivere la propria indipendenza a fianco di operatori specializzati che vivranno insieme a loro. Sono ragazzi comunque che con la legge 112 del 2016 sul dopo di noi hanno la 104 in gravità e vorremmo col PNRR ampliare questi progetti anche a persone disabili più lievi che in questo progetto appunto non riescono ad accedere. Quindi diciamo che noi ci piace vedere una sfida a lungo termine, come fondazione noi domani ci occupiamo di autonomia dagli 0 ai 99 anni, quindi da quando escono dal percorso scolastico provare a sperimentare la vita autonoma per poi andare a vivere da soli, perché no, con degli amici così come fanno gli altri ragazzi. La giornata si svolge veramente in maniera rutinare come avviene nella qualsiasi altra giornata nostra. I ragazzi si svegliano, vengono aiutati da una badante convivente che vive con loro, vanno ai centri diurni, chi ancora lo frequenta perché altri sono in fase di dimissione, rientrano dal centro, tutti i giorni c'è del personale educativo per due o tre ore al giorno e poi alla sera torna il personale ausiliario quindi a dare una mano per la preparazione della cena e la messa a letto. Il giorno dopo si ricomincia. Le festività e tutto quello che riguarda la Pasqua, Natale, compleanni, viene effettivamente vissuto come in famiglia. Quindi c'è chi alla domenica torna a casa dalla sorella o dalla mamma, se ancora in vita, per passare la giornata, chi invece preferisce stare in casa perché appunto è casa sua e magari viceversa invita i suoi parenti qui a passare la domenica insieme.